Eccoci qui ragazzi in diretta, tra poco comincerà siamo già un po' di minuti in ritardo, cioè noi, cioè io forse in ritardo, sono le 6 puntuali E tra poco cominciare a diretta ovviamente noi siamo i primi a aspettarvi, ovviamente aspettiamo quello che dicono loro Eccoci qui, eccoli qui, sono partiti Sono, ecco, non funziona? È bellissimo vedervi, bella sera Siamo qui, siamo a 30 minuti dall'inizio e ci troviamo su questo tappeto verde, salve, bello vederti Oh, senza problemi Come va? Mi sento benissimo, siamo un po' ansiosi, però ci abbiamo messo tutto il possibile per far vedere Quello che abbiamo messo insieme, allora ci vediamo dentro Allora, eh, vi vedete dentro Per i prossimi 20 minuti abbiamo tanto da farvi vedere 20 minuti, io vi darò dentro ora Giochiamo giochi, giochi, giochi È il centro dell'universo dei giochi E voglio dare un benvenuto speciale Ecco Ken Bello parlare con te, Ken, bellissimo vedervi Adesso sei entusiasta? Sì, sempre, sempre, sono felice di essere qui Tu fai giochi da tantissimo tempo È come essere a Hollywood, è molto divertente essere qui a lei Specialmente, dato che non fa troppo caldo, sono molto entusiasta per lo show E tra poco parlerò di quello che dobbiamo fare Ok, allora ci vediamo Arrivederci, ciao, ciao, ciao Ciao, ciao, ciao Per prima cosa voglio ringraziare tutti che sono qui Che ci ascoltano in tutto il mondo È un benvenuto speciale da parte mia Per tutti i fans che sono in Africa, in Europa E sarà per voi come se foste qui con noi Tra un momento ci sarà Dan Green di Motorsports Che parlerà di Horizon Sports 2 Oddio, sento qualcosa Guarda che bello Ecco la macchina Ecco, ci si arriva così Quella è una macchina costosissima Madonna, che macchina Guarda, che proprio sa quello che sta facendo Sa il fatto suo Guarda Porta le chiavi della macchina Ma questo non è Forza Motorsports Hunter 2 Vieni a parlare con noi Bellissimo C'è, incredibile Allora Sei arrivato in modo spettacolare Già, questi Era una Lamborghini Un'edizione rara A chi è dato le chiavi Però dopo vediamo Cosa è bellissima Ragazzi Allora, è bellissimo Averti qui con noi Parliamo un po' Di quello che i fans Si possono aspettare Cominciano bene In questi tre minuti Allora La gente si sta divertendo Tantissimo Con questi nuovi giochi E naturalmente Sports Horizon 2 Che prenderà Grazie di nuovo Per aver portato questo gioco In Europa Come sono I circuiti europei Le strade europee Beh, l'Europa Allora Originalmente Ci trovavamo in Colorado Adesso Portiamo Questo circuito In Europa Come abbiamo detto Arrivi sempre In modo spettacolare Lavori con E porti sempre E porti sempre Nei tuoi giochi Nei giochi che crei Il rapporto che abbiamo Con chi produce Queste macchine È diventato Quello che oggi Dieci anni fa Non avevamo Un rapporto Mentre l'anno L'anno scorso Due macchine Sono state vendute All'asta Una macchina Che costava Più di un milione Di dollari Quindi Avere Un gruppo Che si può Permettere Sia Una macchina Costosa Come la Lamborghini Che una macchina Poco costosa Vabbè Allora Ci vediamo dentro Adesso Tanto su collega Entra anche lui Ma adesso L'hanno abbandonato Allora Alex Vieni Allora Bello vederti Salve Grazie mille Bello essere qui Adesso arriva Fantasia Parliamo di Fantasia Cosa ci puoi dire Allora sì Questo è un gioco Nuovo di musica Musica creativa In un mondo Magico E non è solo Un modo di creare Musica Ma si tratta Di momenti Nella storia Di Disney E tu ci permetterai Di essere Personaggi Della Disney È stato Un privilegio Poter lavorare Con la Disney E Fantasia È un bellissimo Una bellissima opportunità E quindi Porteremo In vita La visione Di Walt Disney Personaggi Che cosa Ti ha attratto A questo tipo Di tecnologia Allora Quando il gioco Si rende conto Di quello Che sta facendo Uno Dei giocatori No Con il proprio Corpo È Fantastico Allora È bellissimo Vederti E adesso Esce Fantasia Quest'anno Siamo molto entusiasti Di questo gioco Adesso i nostri amici Di Halo Eccoli qua Bello vederti Bello vederti Dan E Kiki Come state Ok Dovete continuare Non possiamo parlare Però ci vediamo dentro Ok Ecco Allora Allora Adesso Stiamo cominciando Con Frank O'Connor E Bonnie Bello vederti Come stai Sto benissimo Bene Bello vedere Anche te Allora Tra poco Parleremo Tra poco Parleremo di Halo Sì Parlerò di Halo Voglio parlarti Del viaggio Che ha fatto Halo Beh Non posso Dirti molto Di questo soggetto In questo momento Perché poi ne parleremo Tra poco Allora I fans Ci chiedono Dell'edizione Anniversaria Dell'anniversario Di Halo I fans Parlano di tante cose Hanno parlato di tante cose Sarà interessante Oggi scoprire Se Quello di cui hanno parlato I fans Era Puramente Speculativo O O Meno Però Si saprà Tra un'ora È molto entusiasmante Essere qui Anche tu ti troverai Sul palcoscenico No Io Mi sento Più a mio agio Quando non sono Sul palcoscenico E tu Bonnie Invece Hai passato molto tempo Sul palcoscenico Diventi ansiosa Sì Adesso mi sento Ansiosa Proprio accanto a te Bonnie Ross Frank O'Connor From 3-4-3 Bonnie Ross Allora ci vediamo Dentro Grazie Mi preferito Video game Of all time Is the original Resident Evil It was the first Game Where I wasn't Just driven By The sort of Competitiveness And trying to Beat the game But I was Emotionally Terrified And confounded As to what Was taking place Why are there Zombies in this Mansion Along with Giant snakes In the attic And it consumed My life And still does To this day In a way I always check Attics for Giant snakes You have to You should You really should All right Now I love Achievements I know You love Achievements And I'm Very excited To share with you Some great news About Achievements We have this Brand new app That we're going to Be shipping later This year That's going to Track Achievements Like never Before Take a look Hi I'm Larry Here of Xbox Lives Major Nelson Here with a Quick look At some new Features The team Is working on For Achievements Later this summer First you'll be able To use Achievements In snap mode So you can track Your game's Achievements Seamlessly While you play They'll be sorted By how close You are to Unlocking them And they'll update Your progress In real time You can even Move Achievements You care most About to the top For easy tracking My favorite feature Though is the ability To select any Achievement I'm Struggling with And choose to Get help I simply select An achievement And Xbox One Reaches out to the Web for tips And strategy content Delivering it Right to my TV I hope you enjoyed This quick look At the new Achievements feature Coming later this summer To Xbox One Thanks everyone For watching Sì Ci sono allora Puoi fare Più tardi quest'estate Con questo Tutti gli Achievements Che potete vedere Sul lato Andate nel gioco E potete controllarlo adesso Più tardi quest'anno Ora continueremo Con il Green Cup Alle nove e mezza Lo show inizierà E dopo di che Dopo le undici Ci saranno Domande e risposte E' come qua Sono tornato Uno dei giochi che sperrà fuori E stiamo vedendo E' delle persone che non ho mai visti Infatti Quindi non so che sono Quelle le dieci Guardate Guardate Non sapete mai cosa Aspettarvi qui sul Green Carpet Ecco Cos'è questa cosa Poche cose arriva Il Sunset Overdrive Ah il gioco Che sta arrivando in questo momento E' da Insomniac Games Esclusivamente Per l'Xbox Quest'anni quest'anno Le porte dell'autobus Che stanno prendendo in questo momento E' su qua da Insomniac Games Ciao Ted Vieni qui Ted come stai? Come stai? Bello vederti Bene bene Sunset Overdrive Sunset Overdrive Che succede? Che cos'è? Quell'autobus Abbiamo tutto il team Di Sunset Overdrive Qui con noi Ah tutto il gioco Completo Ecco qua Ci sono alcuni dei personaggi del gioco E Ted come ti sembra? Avete lavorato a questo gioco Per un lungo periodo Non abbiamo mai avuto un autobus Abbiamo avuto qualche problema con il dipartimento di polizia di Los Angeles Sì Siamo fermato Abbiamo avuto un po' di aiuto e ce l'abbiamo fatta ad arrivare In fronte all'autobus Forse è per quello che la polizia vi ha fermato Per il mostro di fronte all'autobus Ce n'è anche uno nell'autobus Tanto per essere sicuri che siamo tutti A posto nell'autobus Questo è un gioco senza il overdrive Che cambia le regole È aperto Un sacco di nuove app Ed è un gioco Che mi piace molto costruire Un'area di insomnia Ed è molto molto Parlando dell'autobus Potete andare online E guardate il video sull'autobus Che lo rivelo Vogliamo essere diversi noi di insomnia Con Sunset Overdrive Sarai sul palco Ted? Sì È una possibilità Ti abbiamo portato a Berb Quindi devi salire sul palco Grazie per essere venuto Grazie a tutti voi Dall'autobus Con Sunset Overdrive Siamo molto felici di essere qui Siamo felici di essere allo show E Insomnia Games Arrivederci Non perdetevi Sunset Overdrive Killer Instinct fans Date uno sguardo Perché ci sono delle novità per voi Guardatevi questo video Ma che gioco è? Kill Killer Instinct Session 2 wow killeristi è un grande gioco ci sono più storie a proposito di killeristen season 2 ci piace a tutti ma Titanfall arriva adesso ciao come stai? è bello vederti si questo è stato un grande momento per noi l'anno scorso milioni di persone stanno giocando il vostro gioco è bello si è stato un sacco di lavoro per noi vanno postati per le nostre macchine avremo tutti i dettagli più tardi una storia divertente da voi io gioco tutti giochiamo sai cosa è successo un paio di settimane fa che siamo stati siamo stati uniti io e Jeff e io e Jeff e il resto della gang team dysfunction un team xbox contro di voi deve sicuro succedere prossimamente sarà divertente giocare con voi ragazzi si oh ne parlavi anche su twitter ne parlavi su twitter vorremmo potremmo giocare un pochino ci piacerebbe anche noi dell'xbox e voi ragazzi giocate con la comunità sempre quasi tutti i giorni a noi piace molto far parte della comunità non vediamo l'ora di partecipare a tutte queste grandi opportunità con Dragonfall si sarà bene stare senza pressione seduta nell'audience grazie è bello vederti ci vediamo dentro sul palco tutti dentro vanno grande lui xbox one ios game come stai asher? fantastico benissimo non sono mai stato in un green carpet prima benvenuto su id nella xbox id3 mi ha cominciato che dicono id id3 id3 cosa do dire id3 volevamo portare più persone nel mondo il nostro gioco e la xbox è una piattaforma fantastica per questo è una puoi giocare mentre stai guardando guardando netflix guardando altri video e far cose contemporaneamente come è fatto la transizione tra touch e controller? è stata naturale quasi perché ci possono usare io vedo che la gente fa un po' scatti quando verrà fuori lo diremo più tardi grazie mille più tardi tutto più tardi sono stato qui sotto il sole ma dentro vedrete e darete il primo sguardo al palco dell'xbox dici che succede lì dentro descrivici la scena per noi che siamo fuori sono esattamente dove voglio essere in questo momento a Los Angeles a lui ci è entrato sta già parlando ci sono duecento persone che lavorano duro in queste settimane che hanno lavorato per trasformare questo posto in una cattedrale dedicata all'xbox durante questa conferenza ci sono un sacco di media e fan dell'xbox ci sono tantissimi tantissimi fan dell'xbox più di sempre prima e ci sono tantissime altre cose interessanti non voglio rovinarvi le sorprese c'è uno schermo gigante è ridicolo abbiamo schermi sul pavimento schermi dappertutto così che tutti schermi da tutte le parti incredibili e vogliamo portarvi questa esperienza live direttamente vedrete giochi giochi più giochi deciditi giochi non hanno da nessuna parte la gente inglese non la conoscono mai il sistema di suoni qui dentro è incredibile vedrete un sacco di interessantissimi i trailer dei nuovi giochi e sono molto molto contento contentissimo a te la parola nel green carpet possiamo sentirlo da qui fuori il vostro sound test è impressionante ma è ok abbiamo il controllo comunque potete sapere questo ragazzo rob ferguson da blacktask wide è bello vederti si adesso ovviamente questo video sarà diviso da tante le parti quindi ragazzi scaricherò tutte queste tre parti perché penso che durerà per un'ora e mezza visto che ho detto che è mezz'ora parlano non fuori con gente che deve entrare e dopo eh dopo si parla quindi penso che durerà un'ora e mezza questo questo evento speciale xbox live i tre siamo stati per 2014 per un mese abbiamo avuto un award con vancouver dalla microsoft siamo molto contenti di essere qui eri a microsoft prima quasi dieci anni nove anni e mezzo sono stato la microsoft ho lavorato all'xbox black week si è un po' di tappo l'immagine non ne stiamo parlando molto ma sei qua e dici quello che puoi dire per ora non c'è tanto da dire per ora ma sono molto ottimista che i nostri fan ameranno i nostri giochi futuri e vedremo più tardi puoi andare a prendere la tua sedia grazie di essere firmato con voi grandi giochi Silicon Valley one of my favorite brand new shows they told us what my favorite game is Silicon Valley it's helped make nerdism less like you're a nerd and more like yeah I'm a nerd I play video games video games are cool you all play video games we're all part of the same teams I think what it really did for me video games it's gonna sound like a joke but I think it makes you more resilient because when I was a little kid those games were really really hard like the snow level on Ninja Gaiden it put hair on my chest like I was like a little seven year old it really worked out ovviamente io non so niente di cioè solo cosa in inglese ma non posso dire tutto quindi non so cosa ne ho detto 10 minuti dall'inizio dello show non andate via a qualche impresa per voi si mancano 8 minuti però vabbè ed eccoci qua oddio no c'è happy wars tanti l'hanno caricato a mo' va la one va happy wars coming to xbox one quindi nel futuro andrà anche nella one bene non bastava solo 360 se non andrà anche sulla one bene benissimo potrete portare contenuto da xbox one che a me non mi piace ovviamente non mi piace diversi schermi guardate cosa si stanno portando lo show sta per iniziare dopo il programma ci sarà ci saranno domande e risposte quindi potete potete anche seguirci dopo il programma dopo l'evento non c'è quasi più nessuno rimasto qui fuori quindi tutti sono entrati a questo punto Graham dicci cosa sta succedendo all'interno del capannone vi posso dire delle cose speciali segrete possiamo vedere dove prende posto il meglio quindi adesso tutta la gente che prepara il programma si sta situando e quindi adesso siamo un po' in diretta tutta siamo in diretta siamo qui che faremo questo video perché lo provo sul mio canale quindi seguitemi sempre sul mio canale DJ DJ no aspetta no DJ 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 AJ Xbox vabbè DJ AJ Angel Xbox si chiama il mio canale è un casino però sotto questo video ci sarà il mio nome sotto il video la polizia di Los Angeles per aver permesso loro di entrare e Dan Greenwald voglio ringraziare anche lui e Fantasia arriverà a Xbox quest'anno uscirà quest'anno quindi non andate via grazie per essere qui con noi oggi io sono Larry e divertitevi è durato un momento di meno ha detto 30 minuti invece è durato molto di meno perché tra poco comincia quindi di nuovo come l'inizio con la logo da Xbox ovviamente non vediamo l'ora di entrare nello studio di Xbox e vedere cosa dicono oggi i nostri ospiti o stigente eccolo ok ho capito ho capito thank you direi grazie mille vabbè solo quello ho capito madonna italiano è zero tutto inglese tanto cloud catutto sempre entra e esce che ho capito che mi ho capito Grazie.